Non so a cosa si riferisca gli accordi, noi abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa per affrontare altri aspetti, non come termini di contrattazione o di scambio, ma per affrontare altri aspetti della mobilità nella città di Cosenza. Io capisco le difficoltà del sindaco perché passare dai banchetti con la firma no metro a fare praticamente, ad assumere la metropolitana, lo capisco, non lo dico sinceramente, lo capisco, però questo non può, come dire, adesso andare a autorizzare a cercare pretesti, cose di questo tipo. Per quanto riguarda specificamente il Jolly Hotel, noi abbiamo assunto un impegno, l'ATERP conseguentemente, perché l'ATERP è uno strumento della regione, deve agire per cederlo alle condizioni poste, naturalmente non regalarlo, ma alle condizioni poste al comune di Cosenza, bisogna fare le procedure per questo avvenga, perché se da parte del responsabile dell'ATERP viene segnalato che si assumono le iniziative di demolizione senza che ancora sia formalizzata il passaggio di proprietà, mi permetto di dire che la legalità deve valere sempre.